Ti sei mai chiesto che cos'è la raccolta di RAE? È la raccolta di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e per farla correttamente bisogna tenersi alla normativa vigente seguendo precise procedure amministrative. Per agevolare le piccole e medie imprese coinvolte in questa filiera, EcoCerveD, nell'ambito del progetto europeo LifeWe, ha realizzato Circo la RAE, un software che velocizza la compilazione dei documenti obbligatori per la raccolta di RAE. Un sistema totalmente digitalizzato che traccia informazioni e dati proprio come previsto dalla legge. Circo la RAE è la soluzione ideale per tutte le imprese coinvolte nella raccolta di RAE. È una piattaforma sempre aggiornata alla normativa vigente e contiene tutte le diverse tipologie di documenti amministrativi obbligatori. Il software è facile da utilizzare ed è accessibile da web e anche da dispositivi mobile. Sulla piattaforma sono disponibili video tutorial che ti permetteranno di utilizzarla nel migliore dei modi. Cosa aspetti allora? Registra la tua azienda gratuitamente su circolarae.ecocerve.it e prova l'applicazione. Per migliorare la raccolta dei RAE basta un clic.